E io sono la rima, assolutamente, e le dalle proiezioni. In mezzo alla piassa del mercato, che se una donna sola, Giovanna, se c'ava, e a se disperata, perché se dì o guardare in fondo su per le colline, che che se una grande proiezione, che capito che che se è la crocefissione di Gesù, ma Gesù è il Dio della migliore amica, e a Madonna, e ha il terrore che la Madonna arriva, e vede anche a più che se dì o nascere, non sa cosa fare, e di poco si butta in genocchio così, in mezzo alla piassa, e cominci a pregare, Dio, te prego, se dì me vuoi ben fa, che ancora non arriva, e non veda stasera orribile, e Dio, te scongiuro se ti esisti, risparmi e mi dica, Dio, te prego. E poi, in quel momento, prima, che a Madonna, e a Ea, sorridente, passivica, che vada su di Piazza, se ne vede o pregare, come la tisla scala, e mezzo alla piassa, e mi dice, ma, Giovanna, cosa mi fa la parterra così? Perché se dovrì o pregare in genocchio, mezzo alla piassa, e a Cazzo, a Ea, che dì un po' più, non lo sa cosa fare, che a Maria voglio di dir che tutto, di dir che se è Sofì o Ea, che si devono morire, ma sa, qua ha gente che grida e che ride, ma guarda bene gli occhi, lo dà il toraio, che dice, ma niente, Madonna, niente, prego, perché stamattina sono andata al mercano, ho trovato un bel peso fresco per mio mario, e ora mi sono detta, facendo una preghieretta al signore, che mi ha fatto sto regalo, dice, ma che grazie, signore. Ma questo, che non ce ne voglio pregare, come una disgraziata, ma rompese? Ma ti sento a casa per un pesce, di pregare così? Ma va, eh sì, ma sape, com'è che so fatta a me, Madonna, che si è tutta un piastro più segona? Ma adesso andiamo a fare le spese, Madonna, ve prego, che vi ho visto delle succhette? Ma no, Madonna, mie spese ho già fatto stamattina, perché mi, al mercano, mi piace andare presto, no? E poi c'è ancora nessuno, e allora mi sento la regina della verità, e che ho passato e mi dice, salve regina, salve regina, salve regina. Mi scherzo da me con un musico là in fondo. Cosa si è che non ha senza, Joanna? Niente, Madonna, niente, che se... Mi ho sposaissimo, mi ho sposaissimo. Tante moglie delle Joanna che mi piace troppo, mi ho sposaissimo. Se è bella, la sposa, e lo sposo, se è tutto sovane, elegante, non so, Madonna, i seforesti, ma... Mi sembra che sei più bestemmiato, Joanna. Ma perché le stagmiato così? Ha un sposaisio. Ma sai com'è che sei fatti i foresti, Madonna? Quando sono contenti, tirano giù certe madone. Ma no, ma aspetta, Joanna, ma... Mi sembra che ho un po' ancora vado. Stregonasso, la tia. Ma come se è che c'è che c'è stregonasso in sta maniera? Mi sto sbagiata, Madonna, mi sto sbagiata, scusate, mi sto sbagiata. E sposaissimo se da un'altra parte. Là, che c'era uno, che stanotte c'era di a far tutto un ballo con dei cavroni, e ora sono arrivati e ho detto, guardate, sei io, il fio del diavolo, stregonasso, che ha messo così in croce, in demo, figlia, adesso, per chieser. Che c'è, che c'è, che c'è? Poi sei in croce dei tuoi ladroni, Madonna, che come tutti i ladroni, galladronano, in demo, casa, adesso. Non in demo, casa, Joanna. Ma hai, a gente mora in sta maniera, in croce, noi altri andiamo a casa. Ma dovrebbero andare a dire qualcosa che non è giusto, che a gente mora così. Magari dice a mamma, a te uno di loro, tranquilli, a casa, al pranzo, e che neanche sa che il chiuso di morir, in croce, in sta maniera, dovevano andare a dire qualcosa, Madonna, perché il mostro è giusto, devo dire qualcosa, aspetté, Madonna. E in quel momento arriva la processione, la figlia bella, questi capelli, i nomi, ma è disperata, e arriva correndo con una disgraziata verso la Madonna, questi dioci disperati, che dice, Maria, 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 mostro più, Gesù, stasetta, 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 ma niente, madonna, niente, ho saputo che sia niente, questa famiglia, Gesù, niente, mi ero disminiscata, di dirvi, che stamattina, ho trovato Gesù, sulle strada, no? E mi ha detto, so Anna, per piacere, se ti vedi a mamma, dica che non posso andare a pranzo, oggi, perché so di rio far, una processione su, per le montagne, e mi ha detto così, ma, Gesù, c'era questo, vuoi mi dirmi anche qui, mia mia, c'era questo, vuoi mi dirmi anche qui, e la ragazza non ha il coraggio, di dirvi a vedere, ah, spassa gli occhi, che dice, sì, madonna, c'era questo, ma che spave, che mi sociapata, ma che Gesù, è arrivata così, correndo, come una disgraziata, mi cerca di ria a immaginare, chissà quale tragedia, ma come siamo fatti, però, noi altre mamme, dovevo da stare, un ciappio tranquille, siamo massa offensive, non è possibile, che basta che una riva, così correndo, Gesù, Gesù, e mi so già a immaginare, chissà cosa, che avevo, sì, lo capisco, però, anche questa qua, con riva, così correndo, ma possano che corri, come una disgraziata, possano che corri, su Anna, stai, che arrebbero così, a sta cuoretta, è che ha fatto anche un chiesetto, e di notare, sta notissima, ma di una cosa, come se è che feciato, come se è una deconazione, feciato, mi, 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 mi,